Buongiorno a tutti amici del canale di Marvin, quello che sto per farvi vedere vi lascerà leggermente stupefatti, ci troviamo in un paesino della provincia di Puglia, esattamente provincia di Taranto, quello che sembra apparentemente un palazzo abbandonato in realtà, ora vi faccio vedere che cosa nasconde, allora lì sopra c'è un piccione non viaggiatore ma è statico, è fermo e sotto guardate un po' c'è una vecchia 500 murata viva con dei pezzi di carrozzeria evidentemente ora in deposito comunque si hanno deciso di murare viva questa bella Fiat 500 che secondo me dovrebbe essere una L, una delle ultime serie, tagliando l'assicurazione ma poi ci sono dei manuali secondo me, a parte di storia dell'arte ma anche di motori, quindi non si capisce niente, una vecchia 500 ragazzi, ma vi rendete conto, con quello che si paga per avere una 500 in ottima condizione, un appassionato cosa pagherebbe, qui c'è una buttata che apparentemente chissà quanti chilometri poteva fare e chissà quanto tempo fa è stata murata, qui c'è una pila di pneumatici di ruote accatastate, assi di legno buttati, anteletro di infissi comunque vecchi e altri pezzi di cui la dieta non riesco a capire, ci sono delle portiere, qui sembra quasi un deposito di un carrozzaio ma non lo so che cosa c'era qui, eppure io qui in questo posto ci vengo da tanti anni, però non ho mai visto qualcosa di questo tipo, infatti adesso chissà perché è tutto aperto, non lo so che cosa è successo, mi sembra quasi crollare anche giù, peccato, pensate un po' se dovesse crollare questo soppalco qua, perché lì c'è una scala, quindi un soppalco, andrebbe a schiacciare questa bella Fiat 500, incredibile, pazzesco, no addirittura ragazzi vedo delle cerniere come se fosse una controvento, guardate lì, lì si può intravedere una cerniera affianco alla guarnizione, lì a metà della portiera, peccato che non si riesce a vedere, sì questa qua deve essere una 500 con le porte controvento, incredibile, ma incredibile, una retta Fiat 500, vediamo se c'è la targa, sì c'è anche la targa, incredibile, pazzesco, pazzesco signori, questo qua è degno di Albifoto, l'Albi8, come cavolo si chiama lui, sembra veramente tutto surreale, ma invece il reale, che bella, che peccato, e la targa è dunque del Taranto 235.000, deve essere del 79 la targa, perché sarà una ritargata, vittoria, assicurazioni, incredibile ragazzi, questa sembra una 500 con le portiere controvento, perché intravedo le cerniere lì, pazzesco, c'è la cerniera, sì, a metà dell'altezza della guida, incredibile, pazzesco, con questa signore vi saluto e questo è il mondo nel 2021, gente che, buh, non lo so per quale motivo, commette certi sceni e poi dicono che l'unico problema sia il coronavirus, ma questo il coronavirus avrà colpito già molti anni fa, certi giorni, nella mente. Buongiorno a tutti e mi raccomando, lasciate il vostro commento, che sarà sicuramente, purtroppo a me, desolante. Ciao a tutti, amici del canale di Marvin.